Il ring di The Voice, Gianna Chilla! L'aspirante ha iniziato qualche anno fa con il rossicchino d'oro, poi naturalmente è cresciuta e adesso si gioca tutto sul nostro ring Angela Pascucci! La battaglia può cominciare. La battaglia è la quarta, ma no i ne lo senti a dire, non la parola è lo stesso Sì 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 So take me Got me down But you won't have thought Until I'm lost And I'm down And I tell the world No, no, no Stoneheart Machine gun Burning up the one surah Stoneheart is falling through just throw me down but I won't fall I am so failure just throw me down but I won't fall I am so failure 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 Con Titanium di David Petà sul palco di The Voice Gianna Achillà e Angela Pascucci Complimenti ragazze Bravissime Noemi? Eh È dura È dura Ti lascio quindi qualche secondo per Rosolare Raffaella L'esibizione di Gianna e Angela Che cosa ti è sembrato? Mi hanno ammazzato Vedevo due tigri Sai quelle che nei circhi saltano i cerchi di fuoco? Za 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 Poi alla fine hanno aperto la gabbia E sono uscite queste due creature straordinarie Bravissime Veramente Piero Guarda io Sono d'accordo con la raffa che già da come vi siete presentate sul palco Sembrava che stesse per fare un doppio salto portale E poi anche come vi siete mosse sul palco Vi siete divertite come due matte Vi siete divertite? Confermate? Come matte? Tantissimo Perchè adesso arriva la parte meno divertente Chi sarà la vincitrice di questa battle? Qua veramente sono Qua veramente sono